Al cospetto del terrore che ha barbaramente massacrato cittadini inermi, tenendo in ostaggio per ore una delle più belle e ospitali città del mondo, non possiamo che esprimere solidarietà al popolo francese, unendoci con convinzione contro ogni fondamentalismo a difesa della democrazia. Inizia così la lunga nota del vicepresidente della giunta regionale Michele Petraroia che si unisce al dolore della Francia in seguito al violento attacco terroristico di ieri sera. E' a rischio la pace globale, si continua a leggere nella nota di Petraroia e non c'è possibilità di volgere lo sguardo altrove. Solo una mobilitazione unitaria di tutti i popoli europei potrà fermare il disegno di gruppi terroristici che nascondono dietro la religione i propri obiettivi di violenza, di strage, di persecuzioni e di discriminazioni, termina così la nota del vicepresidente della giunta regionale.